Sì, beh, ma se noi entriamo nella cascatella e poi torniamo tutto al fiume? No, così. Perché là avanti c'erano i bimbi, i nonnetti, i cani, lì avanti c'è già l'estate e si sono fermati tutti e gli ho detto no, no, guarda che torniamo indietro, siamo qua solo a fare un giro e torniamo indietro, ah, vabbè, grazie. Siamo in giro, ti vedo dove? No, da lì che ne vuole. E la madre non sapete dove andare. Eh, lui lo sa. No, noi siamo arrivati fino a lì e basta, eh. No, non capito. Noi siamo arrivati alla cascatella e basta, ma non ne so più. Di qua, io non... No, andiamo per i coglioni. Bravo, io di qua non sono mai venuto. No, andiamo. Solo che me, figlio, no, no, di là c'è il... Boh, andiamo. Io sono caricato. No, no, io non vado di là. Oh, no, 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 non... ecco, ecco, ecco Grazie a tutti. Non ci sono più i primi e non ci sono più gli ultimi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.